Paola Bragantini è parlamentare del Partito Democratico e fa parte della Commissione Affari Sociali. Lei di recente con una delegazione parlamentare ha visitato il carcere russo e Codugno di Torino. Mi può dire che situazione hai trovato? È una realtà che conosco molto bene perché da amministratore avevamo grandi relazioni con l'amministrazione penitenziaria. Oggi, anche grazie ai provvedimenti di questo governo, ma anche del governo precedente, il governo Letta, la situazione di sovraffollamento è migliorata sensibilmente. E quindi chi amministra un carcere può farlo sapendo che rispettiamo maggiormente i vincoli impostici dall'Unione Europea sulla percentuale di persone che occupano le singole celle. Certo, ancora molto è da fare, in particolare abbiamo visitato la sezione femminile. Presto a Torino, perlomeno, nascerà l'ICAM, che è la struttura che consente alle mamme con bambini fino a sei anni di gestire una maternità all'interno di una struttura carceraria, quindi capiamo bene una situazione complicata. Ecco, Torino è già una realtà abbastanza positiva, abbiamo potuto quindi vedere che sarà aperto nel prossimo mese questa struttura, ma non è così in tutta Italia. Abbiamo bambini che nascono in carcere e che si trovano a vivere i primi anni della propria vita dietro le sbarre. Questo è una cosa di cui ci dobbiamo occupare, non possiamo permettere che un bambino innocente nasca e viva dietro le sbarre. Ecco, lei diceva, Torino è una situazione particolare, se guardiamo invece più a livello nazionale ci rendiamo conto che ci sono diverse criticità, per esempio la questione sovraffollamento, come si risolve? Allora, i provvedimenti che sono stati fatti con pene alternative, che prevedono la depenalizzazione di alcuni reati meno gravi, con la realizzazione di pene alternative, con sanzioni di diverso tipo, aiuta moltissimo. Certo, i reati di allarme sociale vanno gestiti all'interno di una pena carceraria, ma non tutti i reati sono uguali. Questo sicuramente è il primo provvedimento da fare. Già l'abbiamo fatto, ma ancora il governo sta predisponendo, anzi, a dire il vero, è già in commissione, un provvedimento con la depenalizzazione di alcuni reati. Questo non basta, le nostre strutture in alcuni casi sono vecchie e quindi io penso che non dobbiamo avere timore anche nel dire che bisogna investire su carceri che siano più all'onore del mondo. Bragantini, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.